Probabilmente se fosse andato in vantaggio cambiava la partita, non siamo andati in vantaggio, abbiamo cercato comunque di giocare con un avversario che ci aspettava, su un campo molto molto sconnesso e difficile cercare di far gire a palla e abbiamo perso su una delle palle perse per cercare di giocare e loro hanno provato una ribaltezza e ci hanno fatto go. A quel punto è diventato ancora più difficile, nel secondo tempo si è giocato poco, molto spezzettata la partita, l'avversario che si chiudeva ancora di più cercava questa ripartenza e che in qualche ripartenza ci ha messo anche in difficoltà. Ci ha parlato di una passapesta che ha condizionato, non fa le perse dalle che volevano andare distratte. No, no distratta, c'era un'Italia che cercava di giocare, cercava di fare il nostro gioco, quello per cui ci alleniamo sempre durante tutta la settimana, purtroppo per un motivo o per l'altro, l'avversario che ci pressava, questo campo che a volte abbiamo sbagliato dei palloni difficili magari poterli sbagliare alla vecchia o su un altro campo e su uno di questi è venuto il gol e dopo è stato tutto molto più complicato. L'avversario si è impegnato, si è battuto, ha cercato di trovare spazi che l'avversario non ci concedeva, poi era anche difficile perché quest'avversario giocando a punti bassi e molto compatti gli spazi era difficile da trovarli. Quando ci siamo riusciti non ci siamo riusciti a finalizzare, effettivamente il secondo tempo abbiamo creato poco, un po' per il demerito nostro, un po' per il demerito del campo, un po' per il merito dell'avversario. Guardalini ha richiamato l'attenzione dell'arbitro dicendo che Trevis aveva abbandonato la panchina ma lui era andato solo per prendere una palla e per fare in modo di velocizzare la ripresa del gioco. Loro insomma perdevano un po' tempo, chiaramente ognuno li capisco perché essendo in vantaggio hanno cercato in tutti i modi di spezzare il ritro e quindi però l'arbitro richiamato da Guadalina è spulso Trevis, speriamo che non sia così pesante nel referto che farà. No, allora l'altra settimana era successa da tre giorni dopo tre giorni in episodio così questa è stata una scelta tecnica ma anche dettata da quello che vedo durante la settimana se non vedo i miei giocatori, qualche mio giocatore sereno, attento, lo vedo un po' titubante siccome queste partite sono delle grandi battaglie allora ho preferito fare un altro tipo di scelta. No, l'avevo visto chiaramente quando si prende le botte in testa con i punti non è facile oggi qui era battaglia e quindi ho cercato un qualcos'altro di più sano fisicamente, di più idoneo per questo tipo di partita. No, perché l'ampiezza sugli esterni l'avrei avuta solo con i terzini e avrei dovuto giocare due contro due centralmente, avrei dovuto lasciare molto campo a loro, io volevo invece avere l'ampiezza con Franco e Colombo sugli esterni molto alti, a un certo punto si è giocato 3-3-4, poi a un certo punto abbiamo messo anche Mendicino è diventato un 3-2-5, avevamo gli esterni, avevamo 3 punti in mezzo, non siamo riusciti purtroppo, come dicevo prima, vuoi per bravura dell'avversario, vuoi per qualche imprecisione nostra, vuoi perché non c'erano gli spazi, vuoi perché il campo non era facilissimo a giocare e quindi una serie di circostanze che non ci ha permesso di rimontare. La Salernitana ha un po' tra le squadre di vertice che si sono presentate qua a Barletta, ha mostrato da avere un po' solamente una tipologia di attacco, di tattica, parla che si è arrivato sui esterni e che si è al centro poi è attaccato, lei ha avuto se ricostruire la partita in questo modo, oppure ha mancato un po' il centro campo, un po' senza palla? No, no, a centro campo era difficile giocare perché come dicevo prima, oltre alla pressione dell'avversario, il campo a palla rimbarzava male, infatti abbiamo perso molti palloni concesso delle ripartenze a loro, perché sul loro pressing, favorito anche da questa irregolarità del campo, abbiamo preso qualche contropiede di troppo, però non è che noi cerchiamo sempre di giocare sia con gli esterni, perché questo è un modulo che gli esterni devono essere pericolosi, infatti Franco ha avuto due pallegò su cross di Colombo, uno ha preso il palo e un'altra andavamo sbagliato da sottomisura, poi dopo è diventato difficile, passare a quattro non è che non ci ho pensato, si poteva fare 4-3-3, ma dopo avremmo dovuto giocare centralmente in un certo modo, avremmo dovuto spingere gli esterni bassi e alti, concedere spazio a loro, invece pensavo di riuscire comunque a raddrizzare la partita con questo assetto. Sulla classifica le voglio chiedere in chiusura, per quanto mi riguarda, il Penevento ha pareggiato, il Lecce sta giocando, sta ancora pareggiando, comunque una sconfitta che è arrivata con una lunga serie di vittorie, contro Nessina, questo dovrà dire il ragazzo per ricominciare la marcia vincente. Dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo, siamo sempre primi in classifica, dobbiamo avere la consapevolezza delle nostre qualità, purtroppo ci mancano anche dei giocatori, qualche giocatore sta rientrando dopo tanto tempo, mi riferisco a Mendicino, lo stesso Gabbioneta, qualche altro ancora, abbiamo molti giocatori fuori, non dimentichiamo Nalini, Negro, non dimentichiamo che mancano anche altri giocatori per poter cambiare in corso la partita, quindi non facciamo drammi, prendiamo atto, ci dispiace, siamo dispiaciuti, volevamo un altro tipo di risultato, un altro tipo di partita, però è successo questo, magari si va in vantaggio e è un altro tipo di partita. No, loro ci aspettavano, anche il primo tempo, se avete visto, ci davano lo spazio per giocare, per poi aggredirci e poi ripartire nello spazio, non è che siamo stati presuntuosi o qualcosa di questo genere. C'è stato delle difficoltà che ho elencato prima. Il ritmo, quando l'avversario ti aspetta bisogna ragionare, quindi probabilmente se fossimo andati in vantaggio loro sarebbero venuti, quindi magari avremmo trovato anche il ritmo che dici te, perché il ritmo si vede di più quando c'è gli spazi, quando non c'è gli spazi sei costretto a manovrare e sembra che la squadra possa giocare sotto ritmo, ma non è così.